ciao a tutti ed eccoci nell'online di splatoon oggi non voglio usare il rullo ma ho acquistato un'arma nuova lo splat splat e ora dico attanica è un'arma di oggi cioè nuovissima poi questi c'hanno il zecchiello un'altra arma nuova come si fa? ah c'ha vedete? no ma poi funziona c'ha un getto un po' strano eh non mi ci sto trovando per nulla morirò 750 via volte ah praticamente si ricarica e poi ho capito come funziona non mi ci trovo per niente con questo splatting attanica praticamente devo premere zr e poi rilasciare si carica e poi rilasciare vedete si carica il pallino bianco e poi rilasciare non è proprio il mio genere io devo tirare di continuo perché sto facendo pochissimi punti sicuramente non sono lui che sta provando questo particolare strumento questa particolare arma ma tutto strumento chiaramente sto colorando la metà aiuto quelli mi tirano i secchiello le secchiellate aiuto aiuto babbia come sono impedita con questa arba praticamente faccio un metro e un cento nemmeno un metro un centimetro di strada con questa arba no no non mi piace però provo subito tocchiamo qua via ho lanciato la bomba almeno ho spattato ha spattato però almeno ho spattato qualcuno con quest'arma molto molto difficile per i miei gusti andiamo in mezzo dai ma c'è sono arrivata ma hanno spattato come se non ci fosse un domani accipicchiolina no no cambi subito arma dopo perché non posso stare non posso battagliare con un'arma così troverò 300 aiuto maledetto te che mi volevi fare fuori mi volevi splattare voglio dire che si ricarica abbastanza subito però no no non è la soddisfazione del ruolo ci vuole provare spesso perché non provare arbi nuove però gira rigira ne faccio un'altra partita con questo dai ci provo con un'altra poi alla fine farò con il rullo per farmi la bocca dai ci voglio provare però non è che non grazie a me abbiamo vinto perché io ho fatto due millimetri e mezzo di tintura dai ci riprovo grazie eh grazie guarda come sia la reda troppo simpatica dai dai tengo duro e riprovo magari è solo il primo impatto o forse mi è andata di lusso la fortuna del principiante conquistai dai proviamo alla seconda vediamo se ribadisco la fortuna pica dei tm motu quelli che riesco a capire e oscar gamer la battaglia comincia vediamo dove andiamo eccoci pronti è sempre lo stesso schema vai vai ragazzi tutti con le armi nuove abbiamo provato tutti le armi nuove no però ganza che secchiello volevo prendere anche quest'arma che sta usando lui sinceramente la secchiellata ma oggi ho deciso che volevo provare questo troppo incuriosito ehi ciccio non mi tirare le secchiate maledetti dove sei dove sei che da dove mi tiri le secchiate le gavettonate di vernice da dove me le tiri eccolo là su vedi ehi ciccio e t'ho splattato e vai ce l'ho fatta ah ah no uno dei oh ce l'ho anch'io però vai vai partito il tornado vado a colorare ah dai non ci sto dai sto rivalutando l'arma non mi sto trovando male anche perché ho appena splattato qualcuno non vernicio molto eh però vabbè però si ricarica abbastanza la svelta dai può andare dai 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 tutto sommato mi hanno sparato porca caccia la miseriaccia mannaggia ero lì tutta tranquilla che mi stavo colorando mi hanno fatto anche quasi paura mannaggia gialla miseria qua mi stanno facendo gialla come non ci fosse non colore come se non fossi colorata mi fanno gialla ma vai ritorno qua iperterrita ci riprovo e mi risplattano te con questo secchiello di vernice non mi piaci c'hai anche la maschera non ti fai vedere guarda mi rimane antipatico dai dai ci picchia la come hai tinto con il pennello caravaggioso vai 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 ho visto una secchiata di vernice gialla maledetti voi ragazzi oh dai non mi possono splattare così ma siete proprio dei malefici supremi splatoon che tira fuori il peggio di me in volo questa volta abbiamo peggio mi sa che è la fortuna del principiante quella di prima scurate per queste impeccazioni un pochino più colorite ma mi aveva fatto irritare mi splattavano da tutti i lati sopra sotto da sottoterra guarda lo dico anch'io sono come sto facendo la mia alte regole mannaggia la miseriaccia ma non è possibile diglielo dai riproviamoci dai ultima partita con questo splatter qua con questa attanica questo quest'arma qui a te poi non ti uso più un attimino l'erede della tranquillità star killer accidenti c'ha il nome già mi fa paura e vai che mi hai che poi c'è alex e guarda sono tutti col secchiello mamma mia mi fanno paura con quei secchielli tra poco mi colorano mi coloro anche il berretto ho sbagliato mira sicuramente tra poco mi coloreranno anche gli altri ok tutti a provare gli armi 9 però eh spalata al muro bah vi dirò che io continuo a preferire l'urlo non c'è storia e l'urlo è inside me e nel mio cuore ormai non c'è storia e l'urlo è il mio fedele amico l'urlo tranquillo ritornerò non ti abbandono ok dai qua ok ok una bolla di colore un tornato di colore l'ho mandato a spezzonare la zona a colorare la zona ulici punti ulici punti perfetto malefico te ne devi morire alè non l'ho splattato io ma l'hanno splattato degli amici ma sono in riserva vado subito a ricaricare il mio serbatoio aiuto mi sta sparando secchiate di vernice dall'alto ai 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 vai ai ai attenzione eh lo vedo lo vedo che mi sta per spattare scambia subito ho provato a digitare questo tipo qua ma non mi è volato subito dai dai vai vai da questo tipo qua con le scritte in giapponese mi ero avventurata da sola con quest'arma qua giù in una zona molto difficile maccapperuccio pensare che qua con il mio rullo avrei splattato non so che cosa mannaggia aggia questo secchiostro però è divertente mi piace il nome del secchiostro coloriamo qui che ci sono zone libera eh ci stanno vincendo ci stanno vincendo perdiamo anche la seconda ve l'avevo detta ve l'avevo detta la fortuna dei principianti vediamo un po' eh forse 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 uh abbiamo vinto e vai con questa vittoria io chiudo basta tre partite con questa nuova arma che eh però mi fa troppo ridere il mio personaggio sono ultima eh ma non importa guarda come è felice il mio personaggio grazie agli altri abbiamo vinto bene vi ringrazio grande squadra vincente grazie grazie no no torno indietro mentre torno indietro io vi saluto perché vado praticamente a prendermi a rimettermi il mio rullo per sicurezza vi ringrazio per aver visto il video fino a qui si ecco mi è meglio rullo slodo eh vi ringrazio per il sostegno vi ringrazio per il mi piace se mettete mi piace e se non lo mettete vi invito a commentare a dirvi qualcosa appena posso vi rispondo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi io vi mando un bacione e al prossimo video ciao a tutti ciao